Un corso di formazione su media e minori nel luogo in cui fu ucciso il piccolo Loris e in cui si sono registrati tanti eccessi da parte dei giornalisti. L'occasione per una riflessione collettiva sulla professione è stata proprio l'Assemblea annuale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia con il convegno sul tema Quando l'informazione non è minore, Cogne, Rignano, Avetrana, Santa Croce, avanti il prossimo che si è tenuta nella biblioteca comunale Giovanni Verga nel piccolo centro ragusano di Santa Croce e Camerina. Un paese è divenuto suo malgrado simbolo del mancato rispetto delle norme deontologiche come la carta di Treviso, spesso calpestate. Una scelta non casuale voluta dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia e da Sostampa per riflettere sui doveri della professione sovente schiacciata tra il dovere di informare e il rispetto della dignità della persona all'incontro. Hanno preso parte tra gli altri la vicepresidente dell'Ufficio del Garante della Privacy, il magistrato Augusta Iannini e anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti e consigliere nazionale Franco Nicastro che ha coordinato gli interventi assieme al presidente dell'Ordine Riccardo Arena. Ecco perché io vi dico che sento bisogno di scusarmi con il sindaco della città e per alcune cose che sono state fatte, per alcune scene teatrali che sono state consumate sulle piazze della città, mi perdoni, con la collaborazione di qualche suo concittadino in verità e nessuno si scandalizzi, anche con la signora Veronica perché noi scomodiamo la presunzione di innocenza in questo paese quando le cose riguardano noi, i nostri familiari, le persone alle quali vogliamo bene, gli altri diventano buttana o spazzatura, non hanno diritti. Non va bene, non va bene. Noi dobbiamo fare i cronisti, non i giudici. È un altro lavoro.